Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di 10 curiosità su American Horror Story. Partiamo! I creatori di American Horror Story, Ryan Murphy e Brad Falchuk, sono gli stessi di Glee e di Nip Tuck. Ogni stagione la storia cambia e i protagonisti interpretano un nuovo ruolo, ma solo 5 attori appaiono in ogni stagione. Jessica Lange, Sarah Paulson, Lily Rabe, Francis Conroy e Ivan Peters. Ryan Murphy ha rivelato che nel non-episodio di Ogni Stagione i titoli di testa nascondono un messaggio segreto per gli spettatori. La star nascosta dello show è Kyle Cooper. Un nome che non vi dirà nulla, ma è lui il genio dei tuoi titoli di testa di American Horror Story e ha curato anche quelli di The Walking Dead. Jessica Lange ha lasciato American Horror Story alla quarta stagione, dopo un poker di interpretazioni magistrali. In realtà avrebbe dovuto partecipare solo alla prima. Lo sforzo è stato premiato con due Emmy Awards, ma ai premi lei ci è abituata. Aveva vinto già due Oscar per Tootsie e Blue Sky e cinque Golden Globe. Alcuni personaggi citati nella serie sono reali. Katie Bates ha interpretato l'infame Delphine LaLaurie, nota per torturare e uccidere gli schiavi. Ed esistita davvero la strega, interpretata da Angela Bass, nella terza stagione. Anche l'uomo con l'ascia di New Orleans, Danny Houston, è stato un vero serial killer. Le quattro stagioni di American Horror Story, anche se non sembra, sono collegate tra loro. Il treat di Union è Pepper, la tenera ragazza freak, interpretata dall'attrice Naomi Grossman, nella seconda e nella quarta stagione. Il mirabolante cast di Freak Show trae ispirazioni da piccoli grandi artisti del passato, tra cui Fred Wilson, l'uomo a ragosta, e Annie Jones, la donna barbuta. Yoti Amge, che nello show interpreta Ma Petit, è considerata una divinità. Per il Guinness dei Primati è la donna più piccola di statura del mondo. Erika Erwin, l'attrice che interpreta Amazon Eevee, è una modella transgender di successo. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, vi ricordo anche di commentare. I miei social li trovate in descrizione, se volete darci un'occhiata, passateci. Noi ci rivediamo ad un prossimo video, un bacione e un abbraccio. Bella a tutti!